Ciao a tutti ragazzi, bentornati, o benvenuti sul mio canale, io sono Lori, io sono Gemma, il fratello di LOL, esatto, ASMR. Allora oggi siamo qui riuniti perché mi hanno taggato, cioè mi ha taggato la Greta ASMR che mi tagga in tutti i tag possibili, immaginabili, ma la ringrazio. I ragazzi state sintonizzati perché ci saranno delle sorprese con lei. Mi ha taggato nel Christmas Tag e la ringrazio parecchio e per renderlo un po' più così ho deciso di farlo con mio fratello, così rispondiamo insieme alle domande. Io non so cosa sia il video tag. Ma tu non hai idea di cosa sia tutta questa cosa? No. Allora te lo devo spiegare. Ok. Vabbè praticamente stiamo per fare un video tag, praticamente un video tag. Cioè sai cosa vuol dire la parola tag? Cioè tipo quando ti taggano in una foto. Eh esatto, qua ti taggano in un video. Nel senso che c'è un video per esempio, una tipologia di video, solitamente i video tag hanno delle domande. Tu rispondi a quelle domande e poi dopo attacchi le altre due o tre persone, di solito funziona così. Così tutti poi rispondono a quelle domande. Non capito? Io ragazzi non taggerò nessuno perché cioè ormai siamo arrivati a Natale e l'hanno fatto praticamente tutti. Quindi... e tutti sono quasi stati taggati, quindi se non siete stati taggati e io non vi ho toccati e non vi ha taggati nessuno, fatelo comunque. Però tanto adesso ormai è arrivato a Natale. Allora adesso iniziamo subito a leggere le domande. Quindi tu hai capito bene cosa dobbiamo fare? Sì. Tu mi fai domande e io rispondo. Ok. Perfatto. Rispondiamo insieme. Madonna, ma c'è rispondissimo. Non puoi guardare. Ma no, sono diciassette. Domanda numero uno. Esatto. Film preferito di Natale. Come non lo sai? Ma vabbè se l'aereo si guarda Natale, sì. Sì. Quello. Ma vabbè se l'aereo si guarda Natale, sì. Ok. Allora, uno che due. Ok. Mamma ho perso l'aereo e io invece vado con... Mamma ho perso l'aereo. Nenco più. No, scherzo. Il mio film preferito di Natale è... A me piacciono un sacco i cinepanettoni. Anche se non li guardo da una vita. Anche io. Quindi diciamo le cinque leggende. Il film d'animazione. Io ho scelto quello. Va bene. Domanda numero due. Due, due, due. Mi piace questo? Lo fanno loro. Se vuoi mentre rispondi alle domande ogni tanto lo puoi fare. Il colore preferito di Natale? Rosso. Sì dai rosso o comunque bianco o verde. Questi scorsi sono i tre colori che rappresentano di bel Natale. Vedete? Bianco, bianco. Ok. Hai mai costruito un pupazzo di neve? Sono un professionista di pupazze da neve. Addirittura. Io ne ho fatto qualcuno, sì. E anche io sono un professionista, devo dire, sono proprio... Bravo. Poi li liscio tutti così. Se neve che lo facciamo? Se neve che lo facciamo, però ho già nevecato questa cosa. Non lo so. Se neve un giorno. Eh, nevecato una volta passata. Ok, chiaro. Allora... Puoi comprare un solo regalo a chi lo fai? Sì. La vero? La vero? Eh. Dai, quest'anno lo faccio a te perché non lo ho. Sì. Allora anche io lo faccio a te. Ok. Però quest'anno non ci facciamo i regali di Natale. Sì. Dai, io te l'ho fatto, ragazzi. Ah, è vero. L'ha anche già scattato. È vero, tu me l'hai già fatto. Ok, quindi... Io lo faccio a te, tu lo fai a me e questo è il succo. Ok. Però io... Baba... Il mio regalo... No, io te l'ho fatto il regalo di Natale. Te l'ho fatto insieme al regalo di compleanno. Ok. Ma tu sai cos'ha? Non te lo ricordi? Sì, che mi ricorda. E che cos'ha? Il regalo di compleanno? Ah. È il dei vestiti. Cioè la gift card. Sì. È uno unico. Ok. Conta per tutti e due. Sì. Perché sai... La sfigga di nascere a dicembre. Vabbè, comunque è un regalo grosso. Va bene. Apri i regali la vigilia o la mattina di Natale. Quando capita? In realtà anche io, ma nessuna delle due. Perché io li apro tutti prima. Cerco sempre di aprile più o meno a Natale. Tra le due io le apro la vigilia alla sera. Però tendenzialmente se ho un regalo di Natale lo apro appena me lo danno. Abbiamo avuto dei problemi con le cuglie che fanno dei rumori strani. Comunque dove eravamo rimasti? Ah, i regali della Sicilia. Abbiamo detto che li apriamo io 24 sera. Ma in realtà... Quando capita? Il suo regalo l'ho aperto appena me lo dato. Poi... Domanda numero 6. Cosa ami fare durante le vacanze di Natale? Andai in montagna delle spa? In Svizzera? O in Austria? Ci sei mai stato? Sì, ci andavamo tutti gli anni. Quando tu... Anche io. Quando tu eri piccolo. Eh, vabbè. Piccolo però... Quando facevamo la bella vita. Esatto, mille anni fa. Allora, io invece stare a letto tutto il giorno con la borsa dell'acqua calda, mille coperti, una tisana e Netflix. Però anche le terme in montagna non mi dispiacciono. Domanda numero 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Il tuo desiderio di Natale è più grande? Certo. Di stare bene, viaggiare il mondo. Stare bene a livello di salute, quello vero, di famiglia. E riposarmi? Sì. Riposarmi e dormire? Beh. Ah, e poi in domanda numero 8. L'odore che più ti ricorda il Natale. Non lo sai? Non lo sai? No. Tipo la cannella. No. Sì. Stavamo dicendo che l'odore che ci ricorda più il Natale, tu non lo sai? Non lo so perché ma non ti mette la vanta. La vanta? Tipo... No. Ma è tipo cannella. Tipo comunque degli odori avvolgenti e caldi. Sì. Anche, come si dice? La frutta secca. La frutta secca? Dai un'idea tutta tua del Natale. Non lo so. Allora. E... Domanda numero 9. Piatto natalizio preferito? Adesso così ti botto se ti devo dire uno dei tuoi tortellini. I tuoi tortellini. Io... Non ne ho idea. Non ne ho idea. Non lo so. Perché... Un po'... Non ne ho idea. Il panettone. Alle gocce di cioccolato. Panettone o pandoro? Panettone o pandoro? Tutti e due. Ah, è una domanda. Te l'ho fatta io. Ah, ok. Allora, un anno fa ti avrei risposto pandoro. Adesso mi sono convertito al panettone con le gocce di cioccolato. Un buon gustaio. Eh? Un buon... Un buon gustaio. È buono. Sì, sì. Perché poi c'è una mia compagna di corso. C'è anche una mia amica che fa il panettone. E l'ho portata all'università un giorno ed era buonissimo. Allora, domanda numero 10. Diciamo, un oggetto che non può mancare a Natale. Come prima tu. Come prima io. Eh beh, quelli che ho nominato prima. La coperta. La tisana. La borsa dell'acqua calda. Una televisione. Per guardare i film. Un computer. L'albero di Natale. L'albero di Natale. L'albero di Natale, è vero. Che non ce l'abbiamo quest'anno. Ecco perché non lo ricordo. Tutti i decori natalizi che abbiamo in casa sono qua dietro. E li ho fatti io. Allora, domanda numero 11. Puoi elencare tutti i nomi delle renne di Papbo Natale? Non ne so neanche una. E neanche una. Come neanche una. Una la dovresti sapere. Perché? No, ecco la famosa. Gilderude. Ma non è Gilderude. Rudolf. Rudolf the Red Nostring. Vabbè, sappiamo solo Rudolf. Sposta questa. Domanda numero 12. Il miglior regalo ricevuto? Eh, ne ho ricevuti tanti belli. Sì. Sì. Anche io. E che poi faccio sempre fatica perché essendo nato, non so se si può dire, visto che sono nato vicino a Natale, ma li confondo sempre. Esatto. Ma noi ci vuoi tanti belli. Ma è indifferente, insomma, nomina quelli che ti ricordi di più adesso. Tutti i gadget sul caffè che mi hai regalato l'anno scorso, ma mi sa che è per il compleanno e non per Natale. Ok. Ok. Anche lo zaino. Anche quello te lo sei regalato da solo. No, quello. Quello grosso. Ah. Ok. Anche quello mi sa che è per il compleanno e non per Natale. Vabbè, non mi ricordo comunque. Io invece nomino magari quelli che ho ricevuto quest'anno. Ho ricevuto tanti prodotti. Vabbè. Vabbè. Quelli di quest'anno non ve li dico perché ve li farò vedere in un video. Vabbè, a Natale. Domanda numero... 13. Giusto? Lo so. Sì. Ti piace decorare la tua casa per le feste? Sì, un sacco. Ok. Anche a me, però, ho fatto solo la mia stanza. Sì. E' vero, la decoiamo sempre. E' vero, è vero. Con gusto. Con gusto. E' vero, devo dire che i loro due hanno molto gusto. Anche casa loro in Australia dove sono stato è molto molto bella. E' vero. E' vero molto molto bella. Anche a me piace, però quest'anno ci scocciavo un po'. E quindi non abbiamo fatto chissà che cosa. E' vero. E' vero. E' vero. E' vero. E' vero. E' vero. Quindi li faccio sempre aprire subito. E' vero. Infatti anche quest'anno quando mi hai regalato.. Quando mi hai fatto il tuo regalo, e gli ho detto ma quando lo apro.. Perché io lo volevo aprire subito, e lui mi fa.. è a Natale e io ho detto ok e mi fa però se vuoi aprirlo subito io no vabbè no dai aprirlo subito quando mi fanno i regali lo riesco anche ad aspettare quando invece li faccio non vedo loro che li aprano quello anche io allora a me piace tantissimo fare i regali alle persone se so che cosa regalarli e so di potergli fare un regalo bello perché cioè se no vado in crisi perché ci tengo a fare un bel regalo comunque mi piace parecchio fare i regali degli altri e tendenzialmente vado sempre fuori l'accetti a quei regali quando li faccio agli altri però ovviamente mi piace molto anche riceverli diciamo pari merito però odio aprirli davanti agli altri perché mi sento sotto pressione domanda numero 15 qual è il posto che sogni di visitare per le feste di natale? forse New York mi piace sempre vedere New York tu New York e io invece direi magari un posto in montagna però non fuori al freddo tipo caldo con delle terme da stare in relax e canzoni di natale preferita? non mi vuoi il libro ok che want for christmas is you quella direi però quella la versione house or mx Sei bravo a impacchettare i regali o fallisci miseramente? Sono bravissimo E lui è bravissimo Molto Io come avete potuto notare dal video che ho fatto dove impacchettavo dei regali Faccio bene Ci metto dell'impegno Non è che ci vuole un gel L'ho capito Però te sei proprio preciso Sei bravo Faccio un po' Come viene Però devo dire che A me piace un sacco impacchettare i regali Dentro ad altri pacchetti che impacchetto E poi ci metto della carta Cioè mi piace tipo regalare un pacco enorme Pieno di niente In realtà il regalo è vincolissimo Tevo lasciati il tuo regalo Niente quel pacco là In che senso? Il tuo regalo è arrivato nel pacco gigante Ah è vero E niente Le domande sono ufficialmente finite Ok stiamo ancora registrando Hai visto che è stato un bacio nella fine Bellissimo Ti sei divertito? Se mi piacciono i videotag Anche a me E niente ragazzi Taccateci in un altro video Taccateci in un altro video Taccateci in un altro video sotto E Voglio un videotag del caffè Vuoi un videotag del caffè? Sì dai Eh ma lo devi inventare tu Cioè Che ne so Inventalo tu E io devo fare le domande Tu te le inventi Fai il videotag E poi tanti altre persone Ok? Va bene Vediamo Ragazzi vi salutiamo Vi auguriamo un buon riposo E se ci volete vedere insieme In un altro video Siccome lui adesso è tornato Ne faremo altri E fatecelo sapere nei commenti E fateci sapere anche Quali sono le vostre risposte Alle domande che vi piacciono di più Tra quelle proposte E cosa ne pensate? Buon riposo Non fai? Quindi Finiamo così Ok 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 Grazie.